Andre, io per oggi ho finito, ho girato tutta salice con occhio pavese Però pensavo, visto che sei qua a far niente, ma se facessimo un esperimento sociale anche questa sera Tipo, il microfono è pronto No, ho un impegno, non posso Come impegno? Che impegno c'hai, scusami? L'impegno dei miei... Sai, ti ricordi Alice, quella... Ah, quella... Come direbbe Fantozzi Quella proprio... Sì, sì, è lì Notifica Notifica? Notifica, due like su Instagram Ah, ok Cosa faccio io? Cosa fai tu? Dio di cambio su Facebook Oh mio Dio, ricominciamo Marco, ascoltami Tempo 5 minuti Sì Avevo già il numero Whatsapp Beh, però... Io sono uno che non perde tempo No, lo so, l'ho imparato Sono uno che non perde tempo Sì, sì, sì Quindi stasera... Non ci sono, Marco, non ci sono Cioè, ho capito, ma quindi non ci sei perché? Cioè, per... Perché devo uscire con Alice Ma quella... Quella... Ah! 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 Non... Ah! Quella... Ah! Vabbè, vai te a fare i servizi Per occhio pavese Per occhio pavese Che non li guarda nessuno Come non li guarda nessuno? Ma come no? Non li guarda nessuno Andrea, ma... Ma pensai tu ai like, tu? Cioè, non ho capito Ciao Andre Scusami se ti sono solo ora Volevo dirti che forse Non è il caso diverso di stasera Penso ancora un po' al mio ex Poi forse ho capito che Ti vedo solo come un amico No, io adesso... Chiamo Marco Chiamo Marco Pronto? Oh! Carissimo! Eh, dimmi Senti ma... No, no, no Non ci esco più con Alice Non ho voglia Non voglio neanche riprepararmi Stasera No, niente, niente Ti senti ma Quel servizio è la fine? Lo facciamo?